Diamo anche a te la possibilità di guadagnare un bonus che ti potrebbe essere molto utile per la prova finalissima. È una prova difficile, quindi abbiamo deciso di non fartela fare da sola, ma sarai accompagnata da chi ha mostrato di avere una grande affinità con te. Guarda chi sta arrivando. Va benissimo. Più che un compagno di merende e un compagno di aperitivo. Chi sta per entrare? Che sembri agato e non esce? Chi sta per entrare? Dov'è? Non esce, ha già cambiato idea. No Lorenzo! È uscito! Lorenzo, tuo fratello! Guarda che tuo fratello è rimasto lì proprio per farti vincere questo bonus, no? Però, oltre al bonus, ci sarà anche il modo di vivere qualcosa di molto emozionante. Grazie! 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 Grazie!